Ciao, oggi cercheremo di scoprire insieme il primo teorema di Euclide. Se mi hai seguito nella lezione precedente, saprai che in un triangolo rettangolo si definisce proiezione del cateto minore, il segmento BH e proiezione del cateto maggiore sull'ipotenusa naturalmente il segmento HC. Ora prepara i due triangoli rettangoli che ti ho chiesto di disegnare su carta e taglia uno dei due lungo l'altezza relativa all'ipotenusa, cioè lungo il segmento AH. In questo modo otterrai tre triangoli rettangoli. Il triangolo rettangolo grande ABC e due triangoli rettangoli più piccoli che sono il risultato del taglio. Ora prendi il triangolo rettangolo ABC e il triangolo ABH e confrontali. I due triangoli sono entrambi retti. Inoltre hanno l'angolo B in comune e quindi necessariamente l'angolo C e l'angolo A sono congruenti. Quindi in base a quanto abbiamo già studiato possiamo affermare che i due triangoli abc e abc sono simili per il primo criterio di similitudine. Ora disponi i triangoli in questa posizione sul piano e con delle matite colorate marcali secondo le mie indicazioni. Colora di verde l'ipotenusa del triangolo ABC e l'ipotenusa del triangolo ABH. Noti qualcosa? Che l'ipotenusa del triangolo piccolino era in precedenza il cateto minore del triangolo grande che abbiamo ritagliato. Poi con il colore blu indica il cateto minore sia del triangolo grande di origine il triangolo ABC che del triangolo piccolo che è ottenuto con il ritaglio. Anche in questo caso puoi notare che il cateto minore del triangolo più piccolo era originariamente la proiezione del cateto minore sull'ipotenusa nel triangolo grande. Ora, se i due triangoli sono simili avranno sicuramente i lati in proporzione. Confronta allora le ipotenuse con i cateti. Se i triangoli sono simili potremmo quindi scrivere la proporzione ipotenusa sta ad ipotenusa come cateto minore del triangolo di origine sta al cateto minore del triangolo di arrivo. Ma andando ad osservare i tratti originali del triangolo del triangolo rettangolo di partenza possiamo trasformare questa proporzione nella seguente. Ipotenusa sta a cateto minore perché l'ipotenusa del triangolo trasformato era in origine il cateto minore del triangolo abc come cateto minore del triangolo di origine sta al cateto minore del triangolo di arrivo che però in origine era la proiezione del cateto minore sulla ipotenusa. Quindi potremmo scrivere che se BC l'ipotenusa sta ad AB cateto minore come AB cateto minore sta alla proiezione del cateto minore sull'ipotenusa. Bene, cosa noti in questa proporzione? Abbiamo ottenuto una proporzione particolare che se ben ricordi si chiama proporzione continua dove i cateti AB sono medi proporzionali. Cosa significa questa proporzione? Significa che in un triangolo rettangolo un cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la proiezione del cateto sull'ipotenusa. Questo è l'enunciato del primo teorema di Euclide. Risolvendo questa proporzione avremo che il prodotto dei medi AB per AB uguale ad AB quadro è uguale al prodotto di BC per BH, cioè è uguale al prodotto della misura dell'ipotenusa e della proiezione BH del cateto minore sull'ipotenusa. Da questa uguaglianza AB al quadrato uguale BC per BH potrai ricavarti la misura di AB facendo radice di BC per BH. quindi cosa significa questa proporzione? Significa che se conosci l'ipotenusa e la proiezione di un cateto puoi calcolare il cateto di un triangolo rettangolo. Dopo Pitagora arriva quindi Euclide il nostro soccorso. Euclide ci dà un nuovo strumento per calcolare il cateto di un triangolo rettangolo se conosciamo la sua ipotenusa e la proiezione di quel cateto sull'ipotenusa. Quindi possiamo con il teorema di Euclide, il primo teorema di Euclide, conoscere e calcolare la misura di un cateto in un triangolo rettangolo conoscendo che cosa? La proiezione del cateto sull'ipotenusa e la lunghezza dell'intera ipotenusa. Ma risolvendo questa proporzione puoi non solo calcolare la misura di un cateto applicando la formula che abbiamo appena visto, ma puoi anche calcolare l'ipotenusa. Puoi anche calcolare la proiezione del cateto sull'ipotenusa. Ora tocca a te. Prova tu. Riprendi il triangolo disegnato su carta e confronta questa volta i triangoli ABC e AHC. Puoi verificare la stessa cosa? Fatto. cosa hai verificato? Credo che tu abbia potuto verificare che la stessa condizione è valida anche per il cateto maggiore. E allora puoi concludere che in un triangolo rettangolo ogni cateto è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la sua proiezione. Questo è l'enunciato del primo teorema di Euclide. Ricorda, è estremamente importante. Quindi possiamo concludere che in ogni triangolo rettangolo, in base al primo teorema di Euclide, puoi calcolare il cateto se conosci la sua proiezione e l'ipotenusa. Puoi calcolare l'ipotenusa se conosci il cateto e la sua proiezione. Puoi calcolare la proiezione di uno dei cateti se conosci il cateto e l'ipotenusa. Bene, utilizzando questa mappa prova ora a metterti alla prova e a svolgere gli esercizi che ti indico qui in basso a sinistra. Ma proviamo ora a guardare la cosa anche sotto un profilo geometrico e ti invito a provare ad interpretare geometricamente la proporzione che abbiamo appena studiato. L'ipotenusa sta a cateto come cateto sta a proiezione di quel cateto sull'ipotenusa, da cui ricaviamo che il quadrato del cateto è uguale al prodotto della lunghezza dell'ipotenusa per la lunghezza della proiezione. Se affrontiamo la cosa da un punto di vista geometrico, se guardi le aree che cosa noti? Noti che le aree del quadrato e del rettangolo sono perfettamente e sempre equivalenti. Questo significa che l'uguaglianza che abbiamo trovato in precedenza è vera anche sotto un profilo geometrico. Anche in questo caso l'uguaglianza si mantiene, pur avendo costruito il rettangolo utilizzando come base la proiezione e come altezza la misura della ipotenusa. Quindi a questo punto credo che tu sia in grado di affermare che l'area del quadrato costruito su un cateto è equivalente all'area del rettangolo che abbia per dimensioni l'ipotenusa e la proiezione del cateto dell'ipotenusa in qualsiasi posizione esso sia disposto. Bene, ora prova a dimostrare geometricamente il primo teorema di Euclide sul tuo quaderno con carta minimetrata, costruendo un triangolo rettangolo e verificando contando le unità quadrate che e se quanto visto ora è vero. E poi prova pure utilizzando GeoGebra. Ciao, ti auguro buon lavoro e spero di rivederti presto. Ciao ciao!